In questo video vi faccio ascoltare la canzone del lato B, I Dieci Comandamenti dell'Amore. Sarebbe il lato B di Zan Zan, il primo 45 giri da solista di Riccardo Fogli del 1972, la stampa della vedetta e vi auguro buon ascolto. Il pezzo si chiama I Dieci Comandamenti dell'Amore. Questo è un bellissimo pezzo, parlato più che cantato, ma sono parole stupende quello che dice in questo pezzo. Ascoltatelo. Questi sono i Dieci Comandamenti ispirateli dal primo uomo che camminò sulla terra, affinché coloro che sono veri uomini li impongano alle loro donne, per sempre. Primo, io sono il tuo solo padrone, non dovrai possedere altro uomo all'infuori di me. Secondo, non nominare altro amante, pronuncerezza il suo nome in vale, io schiaccerò chiunque si metta fra noi. Terzo, ricordati di glorificare i miei desideri sette giorni alla settimana e due volte ogni domenica, perché mai sarò stanco, mai sarò sanzio. Quarto, onoro il mio nome, il mio corpo, così come ogni donna dovrebbe poterli onorare. Quinto, non ammazzare i giochi più dolci con frasi amare, la tua bella avrà il segno della mia rabbia. Sesto, non commettere con degli altri uomini quello che devi fare con me, solo con me. Settimo, non rubare nelle mie tasche o nelle mie pensieri, non avrai mai più di quanto ho deciso di darti. Ottavo, non dare false interpretazioni se vado per strada con altri, a casa con calma le pavarelli, odi e gli scandali in posti pubblici. Nono, non desiderare l'uomo di un'altra, per il mondo io sarò un omicida. Decimo, non desiderare le cose della vicina né quelle di metrile, non voglio darti se non ciò che ha bisogno al tuo corpo. Uomo, osserva e fai rispettare questi comandamenti alla tua donna e sarai un vero uomo per sempre. Per sempre! Per sempre! Wow, che pezzo! Stupendo! Questo è il lato B di Nzanzan, che si chiama i dieci comandamenti dell'amore.